E' arrivata anche nell'ultimo consiglio comunale di Isernia l'ufficialità della nomina di Cosmo Tedeschi come vice segretario regionale dell'Italia dei Valori. Nomina che ha fatto lasciare al consigliere comunale il ruolo di capogruppo dell'IDV tra i banchi di Palazzo San Francesco. Il neo vice segretario ci ha parlato delle sue nuove responsabilità, puntando sulla necessità di far valere le ragioni del Molise nella realizzazione dell'autostrada Termoli San Vittore, importante opera infrastrutturale che, come messo in luce alcuni giorni fa, non sembra rientrare nelle 28 opere prioritarie del governo centrale. Per Tedeschi esistono delle responsabilità. Su questo punto io in qualità di vice segretario dell'Italia dei Valori voglio tirare in causa delle responsabilità personali rispetto a quest'opera. I cittadini molisani devono sapere che quest'opera finanziabile con 2 miliardi di euro, pari a 4 mila miliardi delle vecchie dire, può cambiare l'economia della nostra regione. Significa che tiro in ballo le responsabilità in primissi di Vitaliano, invitandola in un convegno, in un dibattito pubblico, quanto loro si permettono di prendere in giro ancora una volta i cittadini molisani insieme al ministro Matteoli quando dicono no l'autostrada la faremo nel 2013. Non possiamo aspettare anni e anni e anni. Questo è un diritto, è un qualcosa che a noi molisani ci spetta. Non è possibile che un capologo di regione come Campobasso, l'unico in Italia non toccato da un'autostrada. L'autostrada è un qualcosa che noi vogliamo, noi lo vogliamo con forza. Andremo a Roma, andremo a Roma per farci dare i fondi che ci spettano. Tra le priorità del neo-vice segretario regionale dell'IDV, anche quella di porre in essere le condizioni per cambiare le sorti di una regione ormai al tracollo. Sotto gli occhi di tutti lo Stato della regione molise che ha grossissimi problemi di indebitamento, indebitamento che purtroppo è stato prodotto da chi ha amministrato, è chiaro, cioè chi ha amministrato ha portato questa regione all'esasperazione, io dico gli ha piegato le gambe. Allora l'invito che faccio a coloro che hanno avuto delle responsabilità fino ad oggi è preferibile che onestamente facciano un passo indietro, ci seriamo intorno a un tavolo e diamo un nuovo progetto a questo molise.